I consigli comportamentali sono indubbiamente tanto nell'obeso, cominciare ad avere un atteggiamento verso l'obesità nel senso di ridurre il peso, l'attività fisica, è importante nei consigli comportamentali che niente la parte nutrizionale, cioè l'assunzione di frutta, l'assunzione di verdura ed è molto importante la riduzione di acidi grassi sapi che permanentemente sono carni. Tra gli alimenti importanti ci sono i formaggi che vanno utilizzati a basso contenuto dei tipi, in particolar modo la feta, in particolar modo la ricotta e la mozzarella. Questo non impedisce però in unico la corretta alimentazione di assumerne anche altri sapendo che ci sono dei valori di lipidi superiori.